Dunque, testa ai play-off. Martedì prossimo, 7 maggio, turno preliminare. Gara secca all'Adriatico. I Biancazzurri sfideranno il Ponte d'Era, fischio d'inizio alle 20.30. Il Pescara avrà il vantaggio di giocare per due risultati su tre al novantesimo. Il Ponte d'Era invece ha un solo risultato a disposizione. La vittoria, niente supplementari. I Granata di Max Canzi si sono classificati al nono posto, totalizzando 52 punti equamente distribuiti. 26 in casa, altrettanti fuori, in trasferta stesso bottino del Delfino. Per entrambe, terzo miglior rendimento esterno delle girone alle spalle di Torres, 33 punti e Cesena 43. Lontano dalla Mannucci, 7 vittorie, ma nelle ultime 4 esterne un solo pareggio, 0-0 a Gubbio. I blitz contro Lucchese, Ancona, Olbia, Sestri, Levante, Visse, Pesaro, Re Canatese e Spal. Squadra che segna e subisce 53 gol realizzati, 54 subiti. Nelle ultime sei gare, tre capò, due pareggi e un solo successo con l'Ancona in casa il 7 aprile. Lo scorso 24 marzo, Pontedera ha battuto all'Adriatico, 1-0 gol di Merola. È stato anche l'esordio di Emmanuel Cascione sulla panchina del Pescara. In caso di qualificazione, nel secondo turno, probabilmente il Gubbio in trasferta, con un solo risultato a disposizione al novantesimo, ovvero la vittoria. Se invece gli Umbri uscissero sconfitti dal confronto interno col Rimini, sabato 11 maggio i Biacazzurri giocheranno ancora l'Adriatico contro la vincente della sfida Juve-Under, 23 Arezzo. Prima però l'ostacolo Pontedera, già superato due volte in campionato. Adesso basterà un pareggio al novantesimo, ma guai a sottovalutare l'undici toscano, che a prescindere dalla flessione accusata nell'ultimo periodo, resta tra le realtà più interessanti del girone B.